Si ricorda ai nostri associati che tutte le imprese iscritte al registro imprese che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero l'indirizzo PEC o il cui domicilio risulti scaduto o non valido che dovranno regolarizzare la propria posizione entro il 24 novembre. Diversamente la camera di commercio di competenza provvederà ad attribuire un domicilio digitale d'ufficio e applicherà delle sanzioni. Le sanzioni hanno un importo pari a 60 euro più spese accessorie per le ditte individuali e 412 euro più spese accessorie a carico di ogni amministratore per le società. I nostri uffici rimangono a disposizione per eventuali alimenti o per adempiere a tale comunicazione.